benvenuti a questo nuovo podcast della stampa diocesana sono fabrizio frattini siamo qui per commentare notizie in uscita sui nostri giornali questo venerdì 23 giugno con me c'è il direttore lorenzo del bocca direttore cominciamo come sempre dalle nostre pagine comuni di che cosa parliamo sulle pagine comuni questa settimana beh intanto di esami gli iscritti se ne sono andati la settimana prossima cominciano gli orali abbiamo raccolto le preoccupazioni le ansie degli studenti che stanno affrontando questa loro prova di maturità però abbiamo raccolto anche i ricordi di coloro che la maturità l'hanno fatta 10 20 30 40 anche 50 anni fa non so i mesi passati con la testa sui libri del sindaco cannelli piuttosto che la paura che la torchelli sentiva addirittura nelle vene o il questore che è rimasto addormentato ed è arrivato tardi all'esame giusto in tempo per poterlo sostenere perché è riuscita a entrare nella scuola quando pronunciavano il suo nome poi gianni filippa che è il presidente di confindustria del novara vercelli e valsesia ha riunito gli associati nella certificio di cesare ponti è voluto lanciare un messaggio ai soci che peraltro lo hanno condiviso ampiamente le nostre aziende dice devono avere la radice sotto il campanile devono essere molto ancorate sui nostri territori ma devono poter alzare lo sguardo e vedere al resto del mondo il vero glocal della impresa poi ci sono i greste che riuniscono nella diocesi 15 20 mila ragazzi questi greste seguono dei fili conduttori alcuni riferendosi a personaggi fantastici peter pan piuttosto che biancaneve o aladino altri immaginando di costruire dei racconti sulla mitologia come quello dei cavalieri erranti o inventandosi proprio delle recite totalmente fantastiche che hanno però a cuore la solidarietà l'amicizia l'inclusione e poi le destinazioni dei sacerdoti che sono stati ordinati l'altra settimana don lorenzo armano va a villadossola don samuele bracca va a cameri don luigi donati va a suma e pallanza nell'edizione del sud che per noi sono l'azione le co di galiati il cittadino leggese e il ricreo di che cosa parliamo questa settimana novara spenderà due milioni per riqualificare la stazione dell'autobus ma non saranno sufficienti migliorie diciamo così estetico strutturale occorrerà anche aumentare controlli e sorveglianza la città per dieci giorni si prepara a diventare una palestra cielo aperto con gli street game che consentiranno le esibizioni degli atleti che già praticano degli sport ma che incoraggiano i giovani a provare qualcuno di questi sport per continuarlo eventualmente in futuro il circolo degli amici a san rocco riapre e riapre con una squadra di giovani down è una opportunità per questi ragazzi che potrebbero essere immaginati se non avessero uno sbocco professionale ma anche un'opportunità per il quartiere e che stava perdendo tutte quante le iniziative nel quartiere le aziende stanno chiudendo i negozi se ne stanno andando e il fatto di avere un punto di riferimento è positivo anche per gli abitanti di questa porzione di novara trecate il coro san gregorio ha cantato per raccogliere dei fondi da destinare alla romagna che è tribulato dai dall'acqua dell'alluvione cerano ha un assessore alla gentilezza monica ina di per sé già assessore si occupa del welfare e della solidarietà ma aggiunge questa nuova delega romantino festeggi il patrono san giovanni patronale però anche a olegio perché anche olegio festeggia san giovanni per la verità o legione festeggia due festeggia san giovanni nel quartiere di san giovanni e festeggia i santissimi pietre paolo per la città e ci sono anche lì dieci giorni di manifestazioni dove si intrecciano i riti religiosi con le manifestazioni diciamo più laiche più di intrattenimento soprattutto musicali belizzago l'asilo de medici ha festeggiato l'ultimo giorno di scuola e gagliate al lavoro per rimettere il sesto la chiesa aveva dovuto essere chiusa perché alcune infiltrazioni d'acqua avevano fatto precipitare degli affreschi e c'era il serio pericolo che le strutture fondanti fossero state danneggiate in effetti si tratta di fare dei lavori che divisi in diversi lotti dovranno impegnare almeno due milioni e 500 mila euro quindi una cosa molto impegnativa il paro che fiducio e fiducioso però invita anche la comunità a farsene carico abbiamo parlato del del sud parliamo l'edizione del centro l'edizione del centro è quella che riguarda per noi l'informatore di borgomanero il sempione che il giornale di arona e il monte rosa che è il giornale della valsesia dunque a borgomanero il municipio intende sentire la voce delle periferie e ha cominciato con riunire i cittadini di sant'anna e di santa cristinetta come dire iniziative anche interessanti quelle che questi cittadini suggeriscono al sindaco in particolare queste due comunità vogliono un sottopasso per evitare tutto il traffico che viene determinato dai treni e dal traffico stradale è stato un gran successo la processione al colombaro hanno portato per le strade del quartiere l'immagine del sacro cuore di gesù che è una statua in legno che è stata donata da una comunità della valgardena infine i notai sono campioni mondiali i notai che giocano a calcio sono campioni mondiali della categoria hanno vinto la finale a bilbao contro l'austria hanno vinto ai rigori perché i tempi normali i tempi supplementari erano finiti 0 0 quello che conta è che l'ultimo rigore cioè il gol della vittoria lo ha segnato alessandro rossi che per l'appunto è notario di borgomanero ad arona lo sport riempie le vie del centro con una sorta di street game del lago c'è una polemica fra la maggioranza e la minoranza in comune perché la minoranza va chiesto la riunione di un consiglio comunale straordinario per discutere di alcuni atteggiamenti eccessivi veramente violenti che riguardano la movida il sindaco ha risposto il consiglio comunale già convocato per la fine del mese inutile farne uno di più e in ogni caso su questi come dire momenti burberi di di eccessiva esuberanza già stiamo intervenendo con una maggiore sorveglianza che sarà affidata a carabinieri polizia e vigili urbani a belgirate è stata fatta una giornata dedicata alla vela per fare inclusione dimostrando che anche i ragazzi da uno anche quelli disagiati dal punto di vista fisico possono andare in barca e possono andare in barca con successo borgoticino ha ospitato i campionati mondiali di supermoto il monterosa ha due notizie interessanti che vengono da qua rona una che è il successo della manifestazione campestre riverside loro lo chiamano riverside festival che ha allineato 2000 persone che hanno mangiato prodotti locali l'altra è che lungo corso rolandi uno slargo è stato dedicato alle donne partigiane la guerra partigiana inutile ricordarli in borsesia ha avuto un peso un significato particolare borgossesi a borgossesi a calcio avrà un nuovo allenatore che si chiama simone moretti però il borgossesi granata sono soprattutto orientati a potenziare il livello giovanile delle loro squadre addirittura aprendo una speciale sezione che riguarda i piccoli amici che vengono poi ragazzi di sei anni che ai quali però già piace tirare dei calci prattossesi a festeggi il patrono san bernardo e infine andiamo con la nostra edizione del nord il verbano il popolo dell'ossola e il l'informatore di omenia e del cusio dunque la regione piemonte ha deciso che l'ospedale unico che si poteva immaginare fosse costruito nella zona di ornavaso non si farà più i duecento milioni di stanziamento ci sono ma verranno destinati alla ricostruzione in parte e al potenziamento per altra parte dell'ospedale di verbania e dell'ospedale di domodossola questa iniziativa è contestata in particolare dal sindaco di omenia e dal sindaco di verbania marchionini la quale marchionini però a sua volta è contestata ed è contestata dal gruppo verbania futura che rappresenta un gruppo di minoranza consigliare che con l'ausilio di 700 firme che sono state raccolte tra i cittadini chiede di ripensare a una serie di iniziative urbanistiche in particolare a un maxi parcheggio che è stato immaginato nelle città la città però anche qualche elemento positivo da rivendicare perché per la qualità ambientale ambientale ha ottenuto le quattro vere blu domodossola ha festeggiato i patroni santi gervaso e protaso crevola ha potuto organizzare un pranzo solidale a favore dell'anfas perché la signora nina ha cucinato i gnocchi masera ha vinto il premio per il concorso degli alpini e i periti elettronici che 50 anni fa hanno dato l'esame alcobianchi si sono incontrati con i professori quelli almeno ancora sopravvissuti a vogonia per festeggiare la ricorrenza a omenia i volontari si sono armati di pale secchielli e scopettoni per pulire la città e renderla più vivibile la squadra di calcio del monte buglio vince le selezioni e va in finale regionale ed è una vittoria inaspettata inaspettata per gli stessi calciatori per l'allenatore che a questa finale non potrà presenziare perché già prenotato le vacanze in inghilterra e in quel momento sarà tra londra e la scozia benissimo chiudiamo qui questa nuova edizione del nostro podcast della stampa e cesana novarese io sono fabrizio frattini con me c'è il nostro direttore lorenzo del bocca vi ricordo che anche le nostre notizie le potete trovare sul sito www.sdnews.it una risentirci alla prossima settimana www.sdnews.it